8. L'impero macedone si divide. Nascono i regni ellenistici. Alla morte in attesa di Alessandro i suoi generali e i suoi governatori iniziarono a combattere fra di loro per impadronirsi dell'impero. Tre grandi regni. Dopo circa trent'anni di lotte si delinearono al posto dell'unico impero tre grandi stati. Un regno di Macedonia che includeva anche la Grecia, retto dai discendenti del generale Antigono. La loro dinastia sarà detta degli Antigonidi. Un regno d'Egitto con la capitale Alessandria assegnato ai discendenti del generale Tolomeo Lago, dinastia dei Tolomei. Un regno di Siria con capitale Antiochia, comprendente anche la Mesopotamia e la Persia, assegnato ai discendenti di Seleuco, generale di Alessandro, dinastica dei Seleucidi. Da quest'ultimo si staccò in un secondo momento il regno di Pergamo o degli Attali, dal nome di Attalo, dinastia degli Attalidi. Questi regni furono chiamati regni dei Diadochi, dalla parola greca con cui si indica il successore. Oggi essi sono generalmente detti regni ellenistici. Il termine ellenismo da elleni, cioè greci, nacque però nel XIX secolo a indicare la civiltà nata dall'incontro del mondo greco con quello orientale, nella quale comunque prevaleva la tradizione greca. Una storia durata tre secoli. I regni ellenistici ebbero una storia durata quasi tre secoli, fino alla successiva conquista da parte dei Romani. Furono però spesso in lotta fra loro. Proprio le continue guerre li indebolivano e favorirono un lento processo di disgregazione. Parti di territorio si staccarono e sorsero regni più piccoli e autonomi, oltre a quello di Pergamo, nacquero il regno di Bitinia e quello del Ponto, in Asia minore. A oriente invece si formarono i regni dei Parti, in Persia e dei Battriani, nel territorio corrispondente all'odierno Afghanistan. Nell'impero di Roma, alla fine tutti cadranno sotto la dominazione romana. Il primo, nel 168 a.C., sarà il regno di Macedonia. Il regno di Pergamo verrà lasciato in eredità ai Romani dal suo ultimo re, Attalo III, nel 133 a.C. Il regno seriano dei Seleucidi cadrà in mano romana nel 64 a.C. L'ultimo sarà il regno Egizio dei Tolomei. Nel 31 a.C., dopo la battaglia di Azio, il trionfo di Ottaviano Augusto verrà incamerato nel dominio di Roma. 9. Nel mondo ellenistico l'economia è fiorente, ma permangono discriminazioni e tensioni sociali. Una rete di commerci. In età ellenistica soprattutto l'Egitto conobbe una nuova fase di prosperità e di ricchezza. Alessandra divenne un grande centro commerciale e un porto famoso. Anche Pergamo ebbe un notevole sviluppo, così come Rodi, sull'isola omonima e Antiochia, capitale del regno di Siria. In generale, nei vari regni ellenistici ebbe impulso il commercio praticato soprattutto da mercanti greci. Costoro svilupparono anche il credito, prestito di denaro a interesse e il sistema bancario. L'oro e l'argento furono utilizzati per coniare nuove monete che favorirono grandemente gli scambi commerciali praticati su larga scala. Alcune via di traffico partivano dal territorio dell'odierna Russia meridionale, altre attraversavano il Mar Nero e il Mediterraneo, fino alle coste, oggi francesi e spagnoli, è la città fenicia di Cartagine. Abbastanza fiorente era l'agricoltura, insieme alle attività artigianali e commerciali a esse connesse. Lo Stato controlla l'economia. Lo sviluppo economico era favorito da una discreta mobilità, da un regno all'altro, da una città all'altra. Ogni attività economica veniva però pianificata dallo Stato, dando luogo a un forte accentramento burocratico. Le corti avevano cioè un ruolo preeminente come centri decisionali di controllo. Grazie alle migliaia di papiri ritrovati nelle sabbie del Nilo, possiamo conoscere bene soprattutto le situazioni dell'Egitto. Tasse, dogane, balzelli vari erano diffusissimi. Il commercio di alcuni prodotti come l'olio per esempio era organizzato direttamente dallo Stato e tassato. Lo sviluppo delle leggi, sperimentazioni interessanti avvennero nel campo del diritto. A dettare le leggi e a nominare i magistrati erano i sovrani. I tolomei d'Egitto e gli attalidi di Pergamo fusero la tradizione greca con quella dei codici orientali. Ne nacquero ottime leggi, le migliori, prima che si diffondesse il diritto romano. Discriminazione sociale, purtroppo la fusione auspicata ad Alessandro tra mondo greco e mondo orientale riuscì solo parzialmente. Nelle città ellenistiche i greco-macedoni non più del 10% del totale della popolazione costituivano la classe dirigente, si sentivano superiori agli abitanti indigeni e spesso si univano in associazioni per difendere la loro stirpe dalla crescente orientalizzazione. Solo i greci godevano dei diritti politici mentre gli indigeni non avevano diritto di cittadinanza e vivevano in quartieri separati con amministrazione e giurisdizioni autonome. Per tale motivo in Egitto e in Siria scoppiarono diverse rivolti sociali dovute al fatto che le ricchezze ottenute con il commercio non venivano equamente distribuite. L'arretramento della Grecia. Quanto alla Grecia essa non solo aveva ormai perso la sua centralità ma subiva la concorrenza economica dei regni orientali che finiva per impoverirla. Economie e società in epoca ellenistica, traffici e scambi su larga scala, monete e banche, nell'economia, unità di fondo tra i regni ellenistici, nelle comunicazioni con una fitta rete di strade e di porti, possibilità di circolare, nella lingua la koinè, subrase greco-attica, nella struttura politica con monarchie accentrate, funzionari e burocrati di corte, nella mentalità con il cosmopolitismo e l'individualismo. Glossario, ellenismo. Il termine indica la civiltà caratterizzata dalla lingua e dalla cultura greca, pur se mescolata a elementi di derivazione orientale, diffusasi in tutto il mondo mediterraneo. Questo processo, reso possibile dalle conquiste di Alessandro Magno, portò la cultura greca a esercitare, lungo i secoli, una forte influenza su tutta la civiltà europea. Cosmopolitismo, il termine significa essere o sentirsi cittadino del mondo, deriva dal greco cosmos, mondo e polites, cittadino. Già il filosofo diogene di Sinope, 412-323 a.C., a chi chiedeva di dove fosse, rispose appunto, sono cosmopolita. Il concetto avrà poi una grande fortuna nella cultura moderna, al tempo dell'illuminismo. 10. Nell'età ellenistica si sviluppano le arti, le scienze e la cultura. La lingua comune della koinè. Nel mondo ellenistico si diffuso ovunque la lingua greca. Era una specie di dialetto attico con alcune modifiche. Fu chiamato koinè, comune, da koinè dialectos, cioè lingua comune. Essa divenne la lingua internazionale dei commerci, dell'amministrazione e della cultura, della letteratura e permise a popoli differenti di comunicare tra loro. Si diffonde la cultura greca. Ogni popolo continuò a mantenere le proprie tradizioni e i propri valori, ma la cultura adottata da gruppi sociali più ricchi fu appunto quella greca. Ciò ebbe conseguenze molto positive nel favorire la coesione del variegato mondo ellenistico. Le città, le città furono costruite o ricostruite abbellite secondo i modelli greci. Dunque con teatri, palestre, terme, ipodromi, biblioteche, templi e altari. I centri ellenistici maggiori, da Alessandria a Tiro, da Antiochia ad Atene, presero così un aspetto simile un po' ovunque. Sviluppo intellettuale. L'attività intellettuale era notevolmente diffusa. Poeti, storici, matematici, ingegneri e astronomi scrivevano e pubblicavano le loro opere in greco. Sorsero anche nuovi generi letterari. Il mimo, breve composizione teatrale di argomento comico. L'iddillio, poemetto di argomento pastorale. Il romanzo d'avventure, il romanzo d'amore, la novella. Si diffuse inoltre un genere d'origine orientale, la favola, che è tradotta in greco da Esopo, VI secolo a.C. e in latino da Fedro, XV a.C., 50 d.C., ha goduto di uno straordinario successo fino ad oggi. Lo studio dei classici, le grandi opere della letteratura greco-classica, Omero, i testi drammatici di Eschilo, Sofocle ed Euripide, i componimenti lirici di Alceo e Saffo, i capolavori storici di Erodoto e Tucidide, vennero amorevolmente studiate, copiate e commentate da parte dei numerosi eruditi che nelle scuole, nelle corti, nelle biblioteche si dedicarono a questa immane operazione di salvataggio e diffusione. Il nuovo gusto artistico. La maggiori novità si ebbero nella scultura e nella pittura. Se l'arte greca era stata attenta a sublimare l'uomo reale in una forma di individuo perfetto, l'ideale, la scultura ellenistica, cercava piuttosto sia di rappresentare i sentimenti e le emozioni dell'individuo, sia di cogliere i momenti della vita quotidiana raffigurati talora con grande realismo. Lo sviluppo di scienza e tecnica. Infine ebbe un notevole sviluppo il sapere scientifico e tecnico, avvantaggiato dal precedente patrimonio di conoscenze della civiltà egizia e babilonese persiana. Un patrimonio rimasto vivo presso i dotti di quei popoli e rinvigorito dall'incontro con la cultura greca. Si ebbero così studiosi di grande rilievo nel campo della matematica, della geometria, dell'astronomia, della medicina. Nel III secolo a.C. Eratostene calcolò con procedimenti matematici la lunghezza del meridiano terrestre. Aristarco di Samo avanzò per primo l'ipotesi che la Terra girasse intorno al Sole. Archimede Siracusano sviluppò importanti studi matematici di meccanica e di ottica. Gli scienziati finora citati vissero tutti in pieno ellenismo, intorno a 250 a.C. Qualche secolo più tardi visse invece il geografo Claudio Tolomeo, 85 circa 165 d.C. di Alessandria che sapeva calcolare la posizione delle principali città utilizzando latitudine e longitudine e che misurò in modo precisissimo le orbite dei pianeti. Tolomeo però riteneva che fosse la Terra il centro dell'universo e la sua teoria geocentrica, accentuata da tutti, rimarrà in vigore fino al XVI secolo, allorché venne confutata da Copernico. XI. Nascono nuove ricerche filosofiche e nuove forme di religiosità, un pensiero incentrato sull'io. In età ellenistica cambia e si arricchisce anche l'elaborazione filosofica e religiosa. Nei secoli passati le città-Stato aveva generato per la sua particolare natura una filosofia politica legata cioè ai problemi della polis e del cittadino. Ora però nelle monarchie ellenistiche tutti erano ugualmente sudditi, esclusi perciò dalle grandi decisioni. La riflessione dei filosofi si spostò quindi sulla dimensione interiore invece che su quella politica. Il passo decisivo sarà compiuto in questo senso dalla cultura romana, ma già nell'ellinismo fiorirono numerose scuole filosofiche, dagli epicurei agli stoici, dai cinici agli scettici, tutte attenti ad analizzare il comportamento morale dell'uomo nelle concrete situazioni di vita. La religione, oltre gli dèi olimpici, non solo la filosofia cambiò impostazione. Anche la religione tradizionale, quella degli dèi dell'Olimpo, subì un processo evolutivo che l'avvicinò maggiormente ai grandi interrogativi degli uomini, ai problemi individuali, alla paura della morte, ai dubbi dell'aldilà. Perciò da un lato gli dèi olimpici cominciarono a smarire i loro tratti originari, fondendosi con le divinità locali. Dall'altro lato essi si vennero progressivamente sostituendo altre divinità, come Dionisio e Orfeo, o come il dio di origine persiana Mitra, che dava a tutti la speranza di una vita oltre la morte. La cultura dell'ellenismo. In letteratura, opere scritte nel greco della coinè, nuovi generi letterari, si studiano le opere greco classiche, arti figurative, non più l'uomo ideale ma l'individuo reale, sentimenti, emozioni, spettacolarità, scienze tecniche, astronomia e geografia, Aristarco, Eratostone, Claudio, Tolomeo, matematica e geometria, Euclide e Archimede. Filosofia, attenzione non più alla politica ma alle inquietudini dell'individuo, scuole filosofiche, epicurei, stoici, cinici, scettici, religione, religiosità meno tradizionale, si trascurano gli dei dell'Olimpo, maggior importanza a Dionisio, Orfeo, Mitra, dei più vicini agli interrogativi profondi dell'uomo. Le fonti, Curzio Rufo, Alessandro, dopo le vittorie militari, vuole far nascere un nuovo popolo. Lo storico romano Curzio Rufo riavoca qui una epocale decisione di Alessandro. Dopo aver conquistato l'impero persiano e sottomesso l'Asia, egli intende adesso, siamo nel 324 a.C., fondere vincitori e vinti in una nuova nazione. Nascerà così un nuovo popolo, unito non da vincoli di razza, ma dall'obbedienza a una sola legge e dalla volontà di vivere in pace. Alessandro fa allora convocare un'adunata di soldati stranieri, costringendo i macedoni dentro l'accampamento e quando si furono radunati in folla con l'aiuto di un interprete pronunciò questo discorso. Mentre dall'Europa passavo in Asia, speravo che avrei aggregato al mio comando molte genti illustri, una grande moltitudine di uomini, e non mi sono ingannato nell'aver creduto a ciò che su di loro si raccontava, ma a quello si è aggiunto anche che vedo ora davanti a me soldati valorosi di incrollabile fedeltà ai loro re. Avevo creduto che ogni cosa li stillasse opulenza e che, per la troppa prosperità, si vivesse immersi nei piaceri. Invece per Ercole voi sostenete gli obblighi del servizio con slancio costante. Tale è la forza del vostro animo e del vostro corpo. Inoltre, proprio perché siete soldati valorosi, coltivate anche la lealtà al pari del valore. È la prima volta che lo dichiaro, ma lo so da tempo. Per questo ho bandito una leva di giovani tra voi e vi ho mescolato al nerbo dei miei soldati. Avete la stessa tenuta, le stesse armi, ma il vostro rispetto e la vostra disciplina sono di molto superiore agli altri. Per questo mi sono unito in matrimonio con la figlia del persiano Oxiarte, senza disnegnare di avere dei figli da una prigioniera. Poco dopo, desideroso di accrescere la discendenza della mia stirpe, ho preso in moglie la figlia di Dario e ho invitato i miei amici più stretti a generare figli dalle prigioniere, per annullare con questo sacro vincolo ogni distinzione tra vinto e vincitore. La figlia del persiano Oxiarte si trattava della bellissima Roxanne, figlia di Oxiarte, satrapo della Battriana. Alessandro l'aveva sposata nel 327 quando la ragazza aveva 16 anni. La figlia di Dario, Satira Ostateira, figlia maggiore del gran re persiano Dario III. Anch'essa all'epoca del matrimonio nel 324 a.C. con Alessandro aveva 16 anni. Interpretiamo la fonte. Nella prima parte del testo il generale vittorioso arringa la folla di soldati, parlando il loro stesso linguaggio, perciò celebra le virtù militari dei persiani, ovvero il valore, la fedeltà, la forza dell'anima e del corpo. Nella seconda parte del discorso emerge l'intento che guida Alessandro, mescolare persiani e greci in un solo popolo. Ricordo i propri matrimoni con Roxanne e Statira, due donne barbare, secondo la mentalità corrente, ma meritevoli in ogni caso di generare la discendenza reale. L'ultima sottolineatura è la più importante. Ho invitato i miei amici più stretti a generare figli dalle prigioniere per annullare con questo sacro vincolo ogni distinzione tra vinto e vincitore, dice Alessandro. Queste nozze collettive intendevano suggellare la nascita di un nuovo unico popolo, senza più distinzioni tra greci e non greci. Prendeva così forma il disegno di un grande regno multietnico, un disegno estraneo alla tradizione greca, ma destinato a trovare realizzazione nella successiva civiltà ellenistica, nata proprio sulle ceneri dell'ex impero di Alessandro Magno. La nascita della scienza medica. Magia o scienza? Due atteggiamenti possibili. Talvolta basta lasciar trascorrere del tempo perché una piccola ferita si cicatrizzi o una frattura si saldi. Ma le malattie in genere non guariscono attendendo che il tempo e la natura migliorino la situazione. Occorrono rimedi e gesti specifici, quelli predisposti da sapere medico. L'intervento della medicina però può dipendere da due atteggiamenti assai differenti. Il primo è l'atteggiamento di tipo magico-religioso che attribuisce la malattia all'intervento di una forza esterna negativa. E quindi per rimuovere le cause del male il terapeuta, sacerdote, mago e guaritore interverrà con la parola e il rito religioso. Il secondo è l'atteggiamento di chi applica rimedi suggeriti dall'osservazione e dall'esperienza. La malattia è vista allora come conseguenza di cause naturali. Esse vanno individuate con l'analisi dei sintomi e poi vanno rimosse, utilizzando le conoscenze e gli strumenti tecnici maturati fino ad allora. È questo l'atteggiamento scientifico che sta alla base della medicina. La medicina magico-religiosa degli egizi. Gli antichi egizi coltivarono una medicina tipicamente magico-religiosa. Essi conoscevano bene la farmacopea, ovvero l'arte della preparazione dei farmaci, e sapevano somministrarli sotto diverse forme, dalle pomate alle porzioni, dalle supposte alle pillole ai suffumigi. Malgrado ciò gli egizi intendevano la salute come la condizione di colui che vive in pace con gli dèi, con gli spiriti e con i morti. Perciò, per evitare di ammalarsi, si proteggevano con amuleti, scegliendo giorni fausti, ecc. Ma se qualcuno si ammalava cercavano di placare l'ira degli dèi con la preghiera. Perciò nell'antico Egitto la cura dei malati era affidata ai sacerdoti. Nasce in Grecia la scienza medica. La medicina come scienza sorse nell'antica Ionia, colonizzata dai Greci. Il suo fondatore fu Ippocrate, nato intorno al 460 a.C. sull'isola di Coho. A lui sono stati attribuiti numerosi scritti raccolti nei cosiddetti Corpus Ippocraticum, opere in larga parte dei suoi allievi e continuatori. Staccatosi nettamente da magia e religione, la scuola ipocratica si dedicò alla sistematica osservazione dei processi vitali. Per conoscere le cause delle malattie il medico si affidava all'esperienza, all'analisi dei sintomi da ottenere con la percussione del torace, la palpazione, ecc. e all'annotazione sistematica di vere e proprie cartelle cliniche, da cui ricavare la casistica su cui basare diagnosi e terapie. Il progresso di Galeno. Seguaci di Ippocrate fu, mezzo millennio più tardi, il celebre medico Claudio Galeno. Era un tipico intellettuale ellenistico di cultura greca, ma vissuto nel contesto dell'impero romano. Nato a Pergamo in Asia Minore nel 129 d.C. Galeno aprì una scuola a Roma e scrisse numerose opere, lette e studiate per molti secoli. Fu un attento anatomista e uno scienziato assai innovativo. Studiando i malati e praticando dissezioni anatomiche, raccolse molti dati di fisiologia e patologia, ma purtroppo non riuscì a servirsene pienamente. Frenato dalla mentalità dell'epoca, il sapere medico filosofico di Galeno, riscoperto dagli arabi e fatto proprio dal rinascimento, esercitò forte influenza sugli studi medici fino a 6-700. I saperi della storia, storia e tecnologia, dalla civiltà della parola alla civiltà della scrittura, la scrittura nell'antica Grecia. Per molti secoli la cultura del mondo greco si trasmise solo oralmente. La scrittura in Grecia apparve solo nell'VIII secolo a.C. e la trasmissione dei testi rimase a lungo destinata a un pubblico di ascoltatori fisicamente e presenti. Finalmente, verso il VII secolo a.C. si cominciò a trascrivere i testi dei poeti e dei prosatori, ma utilizzando a tale scopo supporti molto pesanti e scomodi, lastre di marmo, piombo, pelli, poi vasi e cocci. Tutti questi materiali sono chiamati dagli archeologi epigrafi, ovvero iscrizioni. Su di esse si incidevano leggi e decreti, liste di magistrati, i contratti, i testamenti, talora composizioni letterarie. La prima edizione di Omero, pare, fu fatta prontare ad Atene nel VI secolo a.C. dal tiranno Pisistrato, in modo da garantire almeno una coppia ufficiale dei due poemi da recitarsi alle feste panatenaiche. Invece il filosofo eraclito, vissuto tra il VI e V secolo a.C., depositò la propria opera in un tempio e fu così che il suo libro potesse sopravvivere fino alla metà del IV secolo a.C., quando fu letto da Aristotele. La nascita dei primi libri, la circolazione del libro come veicolo privilegiato per la trasmissione dei testi letterari cominciò non prima del IV secolo a.C., allorché nacquero i caratteristici rotoli in papiro, che i latini chiameranno voluminia, rotoli appunto. Pian piano nacque una prima forma di commercio librario, visto che Platone, nell'Aplogia di Socrate, scrive che chiunque può paragonando una sola dracma acquistare le opere di Annasagora. Maggiore diffusione, il libro la ebbe nell'età ellenistica in uno dei suoi centri maggiori. Pergamo nacque un nuovo supporto per scrivere, ovvero davvero rivoluzionario rispetto al papiro. La pergamena o carta pecora ricavata dalle pelli degli ovini. Inizialmente veniva arrotolata come il papiro, solo verso il II o III secolo d.C. La pergamena cominciò a essere piegata e tagliata, dando vita così al codice, l'antenato dei libri moderni. La grande biblioteca di Alessandria. La cultura ellenistica trovò la sua patria da Alessandria d'Egitto. Qui i sovrani tolomei fondarono il museo, cioè la casa delle muse. Nella mitologia le muse erano divinità che presiedevano le diverse arti, un luogo in cui gli studiosi, poeti, filosofi intellettuali, potessero liberamente coltivare le loro ricerche, sovvenzionati dalla monarchia. Non solo i tolomei crearono il cosiddetto fondo delle navi, ordinarono cioè che tutti i libri presenti sulle navi che facevano scalo nel grande porto di Alessandria fossero ricopiati, che gli originali venissero trattenuti e che ai proprietari si restituissero le coppie. Sempre i tolomei fecero appello ai sovrani delle terre perché inviassero ad Alessandria qualunque opera in loro possesso, inerenti a qualsiasi argomento. L'intera cultura di allora trovò così posto nella grande biblioteca di Alessandria, annessa al museo, che ospitava, pare, circa 500.000 rotoli su tutti gli argomenti. Nei secoli successivi essa subì incendi e aggressioni, fino a rimanere completamente bruciata nel V secolo d.C. L'immagine della grande biblioteca che ospita tra i suoi scaffali tutto lo scibile umano è un simbolo del passaggio dalla cultura greco-classica a quella ellenistica. Nella Grecia classica la cultura si affidava soprattutto alla parola pronunciata da aedi, poeti, oratori, attori di teatro. Davanti a tutti, ora, nell'età ellenistica, essa si sviluppa nel chiuso di una biblioteca, un luogo in cui i sapienti dialogano attraverso la parola scritta.